dimmi quando c'è eh eh Aldo Aldo sono qua oggi 10 ottobre 2020 in una grotta questo è il mio habitat da uomo primitivo 2000 avanti Cristo sono qua in questa grotta sotterranea dove vedo una spirale di luce a forma di finestra però mi dà fastidio che c'è una persona che mi sta curiosando adesso io prendo un bel bastone e lo mando via perché io sono uomo preistorico o voglio stare da solo da solo in questa grotta che è troppo bella adesso con questo bastone guarda sai dove glielo picchio in testa questo bastone qua perché io non voglio essere disturbato sono un cavernicolo uomo abitante cioè in una grotta qui ho da mangiare ho il fornello elettrico e purtroppo il bagno è fuori è l'aria aperta però non piove qua dentro sto benissimo è il mio habitat non pago l'affitto non pago niente adesso io esco a minacciare quell'essere umano che ho voluto riprendermi nella mia posizione più intima di grotta ha voluto riprendermi ha voluto riprendermi occhio qua aia ho picchiato la testa no o quante belle castagne eh ma quasi quasi ne mangio crude adesso mi rialzo tra un riccio e l'altro tra un pungiglione e l'altro esce l'uomo primitivo per vedere il mondo per vedere la realtà com'è per vedere oggi la bella giornata li odio le macchine perché l'uomo di una volta non aveva le automobili camminava camminava nei boschi da solo e affrontava la realtà della vita il vivere senza la mascherina aveva la museriola una volta perché mordeva adesso invece si usa la mascherina sono cambiate le ipotesi le tesi riguardo gli anni percorsi dell'essere umano vi saluto vi saluto e vado lì a pestare quell'uomo che mi sta facendo la cinepresa aia aia